latte miele ambrosoli ripiene di miele purissimo e latte fresco di giornata caramelle al miele ambrosoli ripiene di miele purissimo miele ambrosoli ricco di vitamine alimento prezioso e genuino di alto valore nutritivo per i vostri bambini ed ora una novità ambrosito la caramella che vale una festa e ricoperta al cioccolato